Fabio, vai Fabio, vai Veltroasso, è partito! Sindaco, continuano i lavori in Portovecchio, il primo lotto, oggi, questa sera, accesi anche le luci. Un segnale importante, centinaia di pali con questa illuminazione, centinaia di alberi, diventerà un bosco, piste ciclabili, veramente sarà una grande soddisfazione vivere questa parte della città. Oggi, grazie ai miei uffici e grazie a tutti quelli che hanno lavorato, abbiamo inaugurato questo primo lotto che è significativo perché sapete che abbiamo esofa il 30 di giugno, per cui dobbiamo essere pronti. Abbiamo sei mesi davanti, scarsi, ma sono convinto che ce la faremo e presenteremo una città straordinaria. Sarà una grande soddisfazione, abbiamo dato l'apertura ai punti in luce, all'interno del primo tratto del percorso che poi sarà pedonale, comunque ciclabile del Portovecchio. Una prima tratto d'illuminazione che ci riempie d'orgoglio come amministrazione comunale per il lavoro che stiamo svolgendo all'interno del Portovecchio. Vai Fabio! Vai Fabio! Vai! Vai, sei partito!